Ciao e bentornati all'ascolto di The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Questa volta come episodio di Natale vi lascio con una intervista che ho fatto al BTO a Firenze dove ho incontrato Matteo Turato che è un Wine Ambassador per Venissa.it durante l'intervista ci spiegherà che cos'è Venissa, in pratica è un progetto di riqualificazione di tutto quanto una parte di territorio nella laguna di Venezia. Hanno riscoperto e riportato alla luce un antico vitigno e da lì poi è nato tutto quanto un progetto chiaramente commerciale ma soprattutto un progetto che serve per riqualificare un territorio. Un territorio deve essere riqualificato non soltanto con le idee imprenditoriali ma anche con l'aiuto di tutte quante le persone che ci vivono e è questo quello che stanno facendo a Venissa. Matteo ce lo racconta in questa intervista e io quindi vi lascio all'ascolto e ci sentiamo alla fine dell'intervista. Grazie. Sono con Matteo Turato di Venissa e adesso ci spiega un po' che cos'è Venissa ma soprattutto ci racconta una storia, me l'ha raccontata ieri e ho pensato che potesse essere simpatico condividerla con voi. Matteo grazie di essere qui a Digital Wine. Grazie a te, grazie a te è un piacere. Allora che cos'è Venissa e tu che cosa fai per Venissa? Allora io mi chiamo Matteo Turato, sono il Wine Ambassador di Venissa quindi mi occupo della parte commerciale sostanzialmente e Venissa è quel progetto nella laguna di Venezia precisamente nell'isola di Mazzorbo in quell'area che è definita la Venezia nativa quindi tra Mazzorbo, Torcello e Burano e appunto è una parte di Venezia che è più legata alla natura e alle tradizioni agricole e artigiane in generale di Venezia e quindi per secoli le popolazioni veneziane in quest'area hanno vissuto un ritmo della natura rispetto alla città di Venezia quindi è un universo completamente diverso e lo è sempre stato attraverso gli anni, i secoli e in questo contesto... Non è regione di Granseole quello? Come? Non è regione della Granseola il granchio tipico? Ah beh certo sì sì, le tradizioni appunto sono anche quelle legate comunque alla pesca e alla... e sì, alle moeche e granchi esatto e alla muta e poi vengono in particolari periodi all'anno vengono appunto fritte ed è molto popolare, sono squisite esatto e quindi la... stavo dicendo che la famiglia Bisol famosa per la produzione di Prosecco quindi la ventunesima generazione di produttori di Prosecco da Santo Stefano, il cuore di Valdobbiadene, nello specifico con Gianluca Bisol e è partito questo progetto unico nel suo genere che è di fatto un progetto di recupero agricolo cioè è nato tutto dalla scoperta anche un po' per caso di questa varietà autoctona che pochi conoscono che si chiama Dorona con la D e è un incrocio naturale tra la Garganega molto conosciuta nella regione Veneto e la Bermestia bianca che ormai è estinta però la particolarità di questa Dorona è che da una parte è sempre stata nella Laguna di Venezia, nelle isole della Laguna quindi anche il primo valore è quello della biodiversità di Venisa e soprattutto ha sempre beneficiato di una sorta di simbiosi con la Laguna di Venezia, con il luogo in cui è sempre stata in questi secoli, quindi è estremamente interessante vedere come questa varietà è in simbiosi e quindi le caratteristiche, le condizioni di maturazione, il suo comportamento, le sue caratteristiche sono pressoché perfette per il luogo dove ci troviamo. Perché di solito la Laguna di Venezia si associa a tante cose ma non certo al vino. Esatto, è proprio questo uno dei punti fondamentali da cui partiamo quando iniziamo a parlare del progetto di Venisa, cioè la riscoperta non solo della biodiversità che è un nostro importante valore che portiamo avanti ma anche appunto la riscoperta e la rivalarizzazione di tutte quelle che sono le tradizioni, le vecchie tradizioni agricole che hanno sempre caratterizzato le isole della Laguna. Sì perché poi la Laguna di Venezia è piena, io stavo vedendo tempo addietro un documentario e c'è una biodiversità enorme, è qualcosa che uno va sempre a vedere i posti esotici, ma in effetti ce l'abbiamo dietro casa questo posto esotico che è proprio la Laguna di Venezia perché da lì fino giù, fino alla parte del Polesine ci sono delle varietà di flore e di fauna incredibili. Sì assolutamente, basti pensare che ci sono delle specie di uccelli proveniti da tutta Europa che vengono a nidificare nella Laguna di Venezia e quindi c'è un ecosistema lagunare che appunto include questo esempio ma anche tantissime varietà di erbe, di specie vegetali che caratterizzano quelle che vengono chiamate le barene, quelle lingue di terra che appaiono e scompaiono con il ritmo delle maree e quindi è un ecosistema veramente unico nel suo genere e appunto il progetto Venissa dalla riscoperta di questa varietà autottona ha poi allargato la sua missione per conservare, per proteggere quella che è la Venezia nativa e la sua biodiversità insieme alle tradizioni. Quindi lo scopo principale di Venissa non è solo e non tanto fare del vino, poi imbottigliarlo e vendere ma quanto l'attenzione al territorio, la protezione, la conservazione in qualche modo di tutto quanto il territorio approfittando poi per fare anche del vino per carità, però la cosa importante mi sembra di aver capito è proprio concentrarsi su che cos'è il territorio e tutta la sua saggionalità. Sì esatto, il progetto è appunto nato dalla ripartenza per la Dorona di Venezia che era nel loro restinzione nei primi anni 2000. Poi con il bando del 2005 per la vecchia tenuta Scarpavolo, questo clou, questa vigna murata nell'isola di Mazzorbo dove è trecentesca, dove c'era un convento, c'è ancora il campanile e quindi queste mura chiudono quell'ettaro, quasi ettaro, vitato, 4.000 piante di Dorona. Sono state appunto registrate nell'ampellografia italiana come Dorona. Quindi fanno parte del registro? Adesso sì, esatto. E quindi la creazione e la continua ricerca di quella che per noi è la ricerca della migliore espressione di Dorona di sempre, perché è come avere una varietà sconosciuta che è sempre stata coltivata dai contadini e dalle popolazioni veneziane, però di fatto non è mai stata messa in campo una ricerca scientifica, enologica, se non convenissa e con il nostro progetto. E quindi da qui, dalla creazione di questo vino simbolo per Venezia, che è un simbolo appunto di biodiversità, di tradizioni e di scoperte anche grazie alla bottiglia, perché la bottiglia è interamente fatta a mano, a murano. Certo, mi sembra ovvio. Con l'applicazione della foglia d'oro battuta dall'ultima famiglia della corporazione dei battiloro, che si chiama Bertha Battiloro, che è l'ultima in Europa. C'era una grande tradizione in passato nel Medioevo, dove c'erano questa corporazione, più di 300 famiglie che battevano a mano l'oro, ne è rimasta solamente una, una grandissima eccellenza, un esempio di artigianato, ma anche di arte e di manualità, è un esempio di tradizioni riscoperte e quindi vogliamo supportare questo e inglobare nel nostro progetto un supporto, una rivalitalizzazione di queste tradizioni anche grazie alla bottiglia. Sono tutte bottiglie numerate e firmate a mano dagli artigiani Albertina e Spezzamonte a Murano, quindi ricotte in bottiglia. Quindi da qui, da questa idea, da questo slancio di creatività anche poi dalla vigna alla bottiglia, si è steso questo riferimento un po' in laguna, questo ruolo di custode che divenisse in laguna per tutti questi valori che ci sono cari. La popolazione che abita all'intorno alla laguna, perché non ho grande esperienza, non ho grande conoscenza delle persone che stanno lì, è ovvio che sono completamente differenti anche come mentalità e come tipo di vita rispetto a quello cittadino che sta a Venezia, perché appunto sono più contadini, sono pescatori. Come hanno preso il vostro progetto? Cioè quanto il vostro progetto è all'interno del territorio e non è soltanto una cosa che sì, bella per salvaguardare una vigna, però se una cosa del genere non viene stesa alle popolazioni che abitano lì, diventa monca di una parte. Assolutamente, anzi grazie per la domanda perché è anche uno dei fulcri del nostro progetto, cioè il coinvolgimento e l'interazione con la popolazione, in questo caso dell'isola di Burano. Intanto per secoli, appunto come dicevi bene tu, queste persone hanno vissuto ad un altro ritmo rispetto ai mercanti veneziani o alle persone che vivono appunto nella città di Venezia e appunto anche perché a Burano c'è la lingua differisce un pochino come dialetto, esatto, è sempre all'interno ovviamente del veneziano eccetera, però è un po' diversa anche la lingua e questo sta a significare che appunto era un altro universo. Anche le case hanno uno stile completamente differente, queste belle case di pescatori colorate, basse, è bellissimo da vedere. Sì, basta pensare che con la tecnologia, con i motori e con le barche moderne riusciamo a raggiungere Venezia ora, in mezz'ora o 20 minuti in water taxi, dipende, però se ci pensiamo in passato, Remando era un'impresa, era molto lontana rispetto a quello che è effettivamente oggi, ma noi abbiamo messo all'interno della tenuta, abbiamo riservato un lungo spazio, una lunga striscia di orti, come spesso si fa tra l'altro anche nelle grandi città italiane e europee, la possibilità alle persone, in questo caso una decina di anziani nell'isola di Burano, di coltivare vegetali, ortaggi eccetera. Ah, come un orto urbano? Come un orto urbano, loro possono coltivare quello che vogliono, piantare e curare quello che vogliono e poi possono portarsi a casa ciò che hanno prodotto. Ovviamente un certo spazio dell'orto è riservato ai nostri chef, sia per il ristorante Stellato sia per l'Osteria Contemporanea, che in ottica di sostenibilità e autoproduzione utilizzano appunto gli ortaggi e le verdure che sono prodotti dal nostro orto nella nostra tenuta, quindi superando anche quello di fatto che è il concetto del chilometro zero, proprio all'interno della nostra tenuta è prodotto da noi. E quindi c'è anche uno scambio, un circolo virtuoso che si instaura tra i giovani chef che lavorano a Benissa nei nostri ristoranti e la popolazione locale. In questo caso sono anche anziani, quindi racchiudono una serie di saperi, di tradizioni e questo scambio è molto bello ed è un esempio virtuoso di come si possa integrare appunto un nuovo progetto con dei valori che portendono al futuro e anche molto innovativo, ma comunque rimanendo attaccati a quelle che sono le tradizioni anche con la popolazione locale e hanno preso molto bene questi progetti ovviamente. È anche un modo per creare nuovi posti di lavoro in un luogo che dopo gli anni Sessanta, dopo la grandissima Qualte che tra l'altro ha messo a repentaglio anche la Dorona, la varietà autottona veneziana, appunto anche il problema della popolazione perché a Torcello adesso ci sono 10-11 persone che sono nate lì a Torcello, quindi c'è stato uno spopolamento negli anni Sessanta-Settanta. Quindi in pratica è un progetto per il futuro che però nasce appoggiandosi sulle spalle del passato, come dovrebbe essere, non è un qualche cosa di completamente nuovo che il passato lo rinnega o comunque se lo dimentica, anzi nasce appoggiandosi sopra e andando ancora più avanti. Esatto, in questo contesto qui è molto importante anche comunicare di come il nostro vino vuole essere l'esperienza quintessenziale della Venezia nativa, di questo luogo. Perché? Perché il nostro vino è un orange wine, quindi un vino macerato sulle bucce e quindi perché ora parliamo molto di orange wine, a volte per mode, a volte perché si riprende una moda del passato eccetera. I vini macerati soprattutto, però a Venezia, non lo sanno in molti, ma era una necessità macerare in questo caso la Dorona, questa bacca bianca. Perché? Perché anche a Venezia, anche in centro Venezia, ma anche nelle isole, non era possibile senza tecnologia, stiamo parlando di 100, 200, 300 anni fa, non era possibile avere le cantine sotterranee. E quindi a quel punto era obbligatorio, era una necessità, fare lunghe macerazioni sulle bucce andando ad estrarre macerazioni, esatto, quindi estrarre mannoproteine, antiossidanti, tannini e quindi per forza veniva un vino dorato che richiama anche non solo il colore del vino ma anche della bacca che arriva a completa maturazione a settembre. Quindi a quanto pare l'oro comunque fa parte della storia in qualche maniera della geografia di Venezia, perché la foglia d'oro, il vino dorato, beh, è normale. Ritorna in una serie di tradizioni come questa appunto di fare la Dorona, di vinificarla in chiave macerativa. Quindi per noi bere, degustare il vino prodotto da Dorona è un modo per ripercorrere una tradizione antica, quindi macerare il vino perché poi veniva lasciato in stanze non fresche, quindi doveva essere strutturato altrimenti non potevi berlo dopo l'estate. E quindi è per questo che sentire del tannino, vedere il vino dorato, che abbia un certo gusto in chiave macerativa appunto è un'esperienza autentica nella Venezia nativa. Eh sì, perché ovviamente essendo un'uva a bacca bianca in teoria non ci dovrebbe essere il tannino, perché come tutte le uva a bacca bianca, tranne che quando si fa una grande macerazione dove invece si sente, perché appunto c'è una grande estrazione di antociani e tannini che stanno sulle bucce. E come sta andando questo progetto? Cioè queste bottiglie, io ad esempio sono di Roma, dove si possono trovare? Le posso ordinare, le posso bere da qualche parte, posso anche venire su a trovarvi, per carità, questo mi farebbe piacere, però altrimenti chi abita da un'altra parte come le può trovare queste bottiglie? Beh, sicuramente il modo migliore, come dicevi tu, è scoprire questa storia, i nostri valori, il nostro progetto a Venissa, nella nostra tenuta. Abbiamo la possibilità di accogliere i wine lover che vogliono fare questa esperienza di visita e degustazione lì nella vigna murata a Mazzorbo e quindi abbiamo, tramite il nostro sito, è possibile per notare l'esperienza, eccetera, ma abbiamo anche un e-commerce e quindi è possibile acquistare il vino anche tramite il nostro sito, oppure mandandoci una mail e normalmente facciamo poche bottiglie, quindi ovviamente il canale distributivo non può essere soddisfatto quanto i nostri partner vorrebbero, però diciamo che facciamo quello che possiamo, è un grande sforzo, è una grande sfida, però diciamo che cerchiamo di avere il rapporto quanto più stretto possibile con il consumatore finale perché ovviamente è una storia di grande trasporto emozionale, emotivo e quindi le persone naturalmente vogliono avere, hanno una predisposizione naturale ad avere un contatto diretto quanto sono state coinvolte, no? Sì, anche perché io parto dal principio che oggi con l'e-commerce abbiamo la possibilità di bere i vini che vengono da tutte le parti del mondo, dell'Italia, senza doversi troppo spostare, però almeno una volta nella vita un vino va bevuto nel luogo dove viene prodotto e penso che, mi faccio un'immagine conoscendo un po' quelle zone Torcello, Burano e la Laguna di Venezia, non sono un grande conoscitore ma ci sono stato più volte, io immagino già anche il romanticismo di bere questi vini color orange, color oro ramato, come l'immagino con questa nebbia che c'è sempre da quelle parti, magari forse è soltanto una mia immagine romantica però sicuramente sarà molto più bello bere del vino all'interno di questa regione che non a casa in una città perché poi diventa, diventa tutto, cioè si appiattisce tutto quanto, almeno una volta qualsiasi vino andrebbe bevuto nel luogo dove è prodotto, nella campagna dove è prodotta. Sì, io credo che, come dici tu, almeno una volta bisogna averlo un determinato vino dove è prodotto, davanti alla vigna dove viene prodotto, però in questo caso stiamo parlando anche di viticultura eroica, in alcuni casi, in alcuni anni, in alcune annate diventa anche eroica, come ad esempio nel nostro vigneto dei Rossi, è una vigna molto particolare, molto vecchia, a 20 minuti da Mazzorbo, dove abbiamo la vigna del Bianco, c'è l'isola di Santa Cristina, questo è un progetto secondo perché prima è iniziato quello del Bianco, quindi nel 2010 la prima vendemmia del Bianco, ma nel 2011 c'è stata subito la vendemmia del Rosso, quindi nasce anche il Venissa Rosso. Stiamo parlando di Merlot e Cabernet Sauvignon e lì è una parte veramente remota della laguna dove bisogna scegliere accuratamente quando recarsi in barca, ovviamente solamente in barca, nell'altra vigna a causa delle maree, perché c'è il rischio di secca, come lo chiamano di Venezia, però io credo che in generale in questi casi di viticoltura eroica non stiamo parlando solamente dell'uomo che è un eroe, in questo caso per fare viticoltura in quel contesto là, con quelle determinate condizioni, ma anche se visitiamo queste vigne, queste piante di Dorona, sono incredibili, sono loro prime gli eroi di questa storia, nel senso che ripercorrendo il tema della simbiosi della Dorona con questo contesto, noi vediamo che sono veramente vigne resilienti, vigne incredibilmente resistenti che hanno subito un adattamento attraverso i secoli e ora riescono a sopportare ad esempio l'acqua salata. Io infatti a quello pensavo, le radici della vite scendono giù verticalmente, sono molto lunghe e scendono verticalmente, quindi per forza di cose vanno a pescare nell'acqua del mare, quell'acqua salata e spesso anche salmastra della laguna di Venezia, quindi diventa anche difficile per la vite stessa produrre dell'uva adatta per il vino, quindi sì, l'eroismo non è soltanto da parte dell'uomo, ma è anche dalla parte della vite che uno dovrebbe andare e lei dice, brava vite che sei riuscito a fare una cosa del genere. Sì, assolutamente, la prima difficoltà è appunto quella delle radici, come dicevi tu, non c'è un ristagno d'acqua in nessun contesto, perché anche durante le acque alte poi l'acqua va giù, però l'unico effetto è quello di una riduzione drastica della vigoria della pianta, quindi è un po' un concetto che non è molto semplice o intuitivo, però è possibile, facilmente immaginabile, pensare alle radici che magari prendono il sodio e ce le ritroviamo nel bicchiere, in realtà non è assolutamente così, tende a lasciare la radice, la pianta tende a lasciare il sodio e l'acqua salata nel terreno, è qualcosa che va contro alla pianta, però questo attacco, questo stress molto intenso rivolto alla pianta poi la induce naturalmente a produrre poco, quindi ovviamente la produzione è bassissima, ma queste piante riescono a concentrare così tanto il succo, l'uva e le sostanze che vi sono nei grappoli, che appunto raggiungiamo a volte anche un solo grappolo per pianta, e sono grappoli assolutamente piccolissimi, sto parlando ovviamente del nostro primo vino, il Venisa Biano. Senti, se, allora, darci qualche riferimento anche digitale, va, visto che ci troviamo, ma se uno vi vuole cercare, intanto qual è il sito principale dove andarvi a cercare e dove trovare tutte le informazioni? Il sito principale è www.venissa.it, potete trovarci anche su Instagram con venissatenuta e appunto abbiamo anche 5 camere, un ristorante stellato e un bistrò, un'osteria contemporanea. Ti ringrazio Matteo, è stata una storia veramente interessante alla riscoperta di qualche cosa che forse andando sempre un po' tutti quanti di corsa, noi ci dimentichiamo, no? Di tutte quante queste piccole storie che poi alla fine per chi ci abita invece sono grandi perché poi sono la loro vita. Grazie ancora Matteo. Grazie a te, grazie mille. Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto, a me è piaciuto molto ascoltare le parole di Matteo che oltretutto ha una grandissima esperienza per quello che riguarda la parte di comunicazione del vino e ha anche tante storie da raccontare e probabilmente lo riascolterete e lo riascolteremo ancora in altri episodi perché la mia intenzione è proprio quella di iniziare a cercare queste storie di riqualificazione e partendo proprio da Venissa mi è sembrata una cosa interessante da proporvi e proprio per questo ve lo lascio come episodio di questo periodo. Io per ora vi saluto, vi ricordo che questo episodio, come tutti gli altri, è offerto da WineAround la piattaforma per il vino digitale e per il direct to consumer per quello che riguarda le aziende vinicole e non soltanto. Ricordatevi WineAround.com se volete imparare qualche cosa in più sul direct to consumer e volete un valido aiuto per entrare all'interno di questo canale di vendita. Vi ricordo anche il canale Telegram dei Digital Wine Lovers lo trovate su thedigitalwine.com slash telegram e soprattutto se il podcast vi piace allora potete pensare di sovvenzionarlo, di finanziarlo sottoscrivendo un abbonamento annuale alla newsletter la trovate su thedigitalwine.com slash newsletter è un modo interessante secondo me per finanziare i podcast indipendenti per finanziare l'informazione autoprodotta così come è thedigitalwine e quindi thedigitalwine.com slash newsletter bene io vi lascio qui, vi auguro buone feste e mi raccomando bevete con moderazione ma soprattutto mai prima di mettervi alla guida ci sentiamo all'anno prossimo e al prossimo bicchiere